Ciao a tutti, sono Ronnie Quintarelli, pilota Nissan e Super City giapponese. Sono qui oggi per chiedere un favore a tutti voi. C'è un bambino di 6 anni che si chiama Alfonso e tanti altri bambini e persone che stanno ruotando contro la leucemia e danno bisogno urgentemente di un trapianto di midollo osseo. Diventate donatori anche voi, aiutiamo Alfonso e tutte queste persone.